Buonasera, ben ritrovati. Qualche minuto di ritardo per esigenze logistiche, ma ne valeva la pena perché abbiamo la fortuna di poter avere qui la presenza, oltre che del relatore Alfio Agostini, che ci parlerà della compagnia del Ballet Nacional de Cuba e dei due titoli che presentano il tournée qui a Torino. Abbiamo la fortuna di avere due dei primi ballerini della compagnia, Vienzai Valdez e Vittorio Esteves, che vedrete impegnati in entrambi i titoli, per cui potremmo beneficiare anche della loro testimonianza diretta. Nel parlare di una compagnia che è un tutt'uno con la sua fondatrice, Alessia Alonso, forse per lei non è sprecato usare il termine di monumento vivente perché ha alle sue spalle una lunga storia di ballerina, di fondatrice della compagnia Cuba nel lontano 48, prima che poi la compagnia venisse assegnato l'attuale nome dal 59. Ha fondato la scuola che tuttora rifornisce le fila della compagnia maggiore ed è peraltro la Giselle per antonomasia del Novecento, per cui abbiamo a Torino due titoli rappresentativi come più non si potrebbe di quello che è il repertorio di questa compagnia classico, nel senso che si rifà alle versioni di scuola russa, originali, ma con un'impronta che è solo una compagnia, come dire, frutto del crogiolo di razze e di capacità plastiche, fisiche, dei suoi ballerini può avere. Non tolgo altro tempo, ringrazio Alfio Agostini che non so se sono un debutto a questi microfoni, ma certamente da molto tempo che non l'avevamo qui e quindi gli cedo la parola. Grazie. Grazie a lei per la presentazione, grazie al pubblico di essere intervenuto, grazie a tutti voi, grazie anche da parte della compagnia del Ballet Nacional de Cuba. Mi arrogo il diritto di parlare al loro nome perché mi considero un vecchio amico della compagnia ed è forse per questo che mi è stato chiesto di parlarvi brevemente della compagnia, della sua fondatrice e degli spettacoli che vedrete nei prossimi giorni. Dunque, i due bravi e bei ballerini che vedrete poi in scena e che sono qui seduti vicino a me, vi sono già stati presentati, sono due prodotti puri della Scuola del Balletto Nazionale di Cuba, di cui parleremo dopo. Viensay Valdez è praticamente la ballerina principale della compagnia in questo momento, la figura di spicco anche nelle tourne internazionali, eccetera. Non la vedrete questa sera, ma dopo domani sera Danzerà Giselle e poi delle recite di Don Quixote in seguito. Victor Estevez è una giovane promessa della compagnia, ma già impegnato in ruoli principali. Quindi abbiamo due ospiti molto significativi dalla compagnia e sono tra le stelle che vedrete poi in scena. Quanto alla nostra conferenzina, devo dire che io in questo caso sono un pessimo conferenziere, vi dico subito, perché un conferenziere bravo, diligente, si prepara un pacco di foglietti, si fa degli appunti, si fa una lista, una scaletta di cose da dire. Ma se avessi fatto una cosa simile, credo che mi avreste piantato qui da solo a un certo punto per andarvene a vedere lo spettacolo, perché mi sembra di avere tante cose da dire del Balletto di Cuba, per il quale, confesso, io ho una passione indecente. Io sono un critico di danza, non dovrei avere favoritismi, ma ho proprio un mio favoritismo, se mi permettete di parlare di me, che non è interessante, ma insomma, un amore e una passione speciale per il Balletto nazionale di Cuba e per la sua fondatrice, Alessia Alonso. Ecco, il nome fatale che risuonerà ancora molte volte qui, che è stata una delle più grandi ballerine del secolo, di cui ho l'onore di essere amico, l'ho vista danzare nell'ultima fase della sua carriera, naturalmente, e quindi ho questa, come dire, questa passione particolare che cercherò con poche parole di comunicarvi, spero, anche se saranno certamente gli spettacoli che faranno diventare certamente anche voi amici del Balletto nazionale di Cuba. Anzitutto vorrei sfatare un piccolo equivoco, naturalmente non è il caso di dirlo a voi, se siete qui siete appassionati di danza, immagino, ammate la danza e sapete già molto bene che cos'è il Balletto di Cuba. C'è però, come dire, un perdonabilissimo equivoco quando si pensa normalmente al Balletto di Cuba, perché si pensa, naturalmente, ad un'isola meravigliosa, l'isla grande dei Caraibi, abitata da gente bella, di origine multiraziale, e dotata di un, anche in un luogo comune, pensare che sia dotata di un istintivo senso per la danza, per la musica, per il ritmo, per il movimento. E quindi ci immaginiamo che il Balletto di Cuba, ci si immagina comunemente, ci si immagina che il Balletto di Cuba abbia qualcosa a che fare con questa, diciamo, con questa origine caraibica, pensiamo a danze folcloristiche, pensiamo a danze che vengono da paesi baciati dal sole, dal ritmo, dalla musica, no, 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 anche se i danzatori cubani sono orgogliosi della loro cubanità o della loro cubaneria, come dice la mia amica e collega Elisa Vaccarino, che è qui presente, e che, come dire, mi contende il primato di cubanofilo, di ballettomane cubanofilo in Italia. E quindi sono molto fieri della loro cubaneria e quindi ammetterebbero che un qualcosa del loro spirito, del loro amore per il ritmo e per la musica e per la danza in generale, sia passato anche nello spirito con cui danzano il Balletto Classico. Ma sia ben chiaro che il Balletto Nazionale di Cuba è una compagnia puramente di balletto classico, con una grande scuola accademica di origini antiche, di origini addirittura dell'antica scuola italiana della fine Ottocento e che è stata sviluppata da Elisa Alonso in termini proprio rigorosamente classici. Questo è un discorso che dovremo toccare in seguito. Per adesso vi dico molto brevemente la storia del Balletto di Cuba. Il Balletto di Cuba nasce da una figura. Questo è un raro caso, non per fare dei miti personali, ma è un caso in cui non si può negare di riconoscere che il Balletto di Cuba è nato ed esiste per la personalità e la volontà accanita di una persona, Alessia Alonso. Alessia Alonso è cubana di origine, è nata a Cuba. Quella della sua età è un tema delicato, però posso dire che ha festeggiato quattro anni fa a New York, pubblicamente, con una grande festa al Metropolitan, ha festeggiato i suoi 90 anni quattro anni fa. Quindi, però questo, se posso dirlo a voi, sperando che loro non glielo vadano a dire, vi confesserò una cosa, che questo nasce da un piccolo suo vezzo di qualche anno fa, quando si era rubata tre anni, qualche anno fa, perché in verità è del 17, quindi avrebbe 97 anni. Poi dopo, una volta che si era fatta questo piccolo furto d'età qualche anno fa, poi non ha più voluto smentirsi e si è continuata con questa storia. Quindi diciamo ufficialmente 94 anni. Quindi voi fate i conti dell'epoca, questa ballerina straordinaria, formatasi all'inizio a Cuba, ma presto a New York, perché dopo i primi tempi in cui ha avuto maestri italiani, francesi, russi, di passaggio a Lavana, passò a New York, dove fu allieva pure di maestri italiani e russi, ma russi, intendiamoci bene, russi pressoietici, quindi russi della vecchia scuola. Non dimentichiamo che Cuba, e in particolare Lavana, che a noi sa di tropici e di esotico, era una delle città più importanti nelle colonie spagnole, per tutto il 600, 700 e fino all'inizio del 900, quindi praticamente fino al secolo scorso. Aveva un grande teatro, il Gran Teatro della Lavana, è un teatro sontuoso, splendido, con un'architettura e una ricchezza di marmi e di ori da fare invidia ai grandi teatri d'opera europei. Questa città, questa grande città, aveva un'aristocrazia e una borghesia molto solide, molto ricche, che volevano naturalmente permettersi, come in tutte le grandi capitali del mondo, voleva permettersi l'opera, il balletto, la musica. Il Gran Teatro della Lavana, nell'Ottocento, ha ospitato i più grandi cantanti d'opera dell'epoca, sono passeuti, e le più grandi ballerine. Quindi una certa qual tradizione c'era. Quindi ci sono rimaste poi delle scuole di danza secondarie, minori, delle scuole private, fino appunto all'epoca di Alessia Alonso. Alessia Alonso però, siccome in patria, in quegli anni, negli anni 30 e 40, negli anni 30, non poteva trovare a livello suo, era di buona famiglia, e andò a studiare a New York, dove studiò appunto con dei maestri di scuola, ripeto, di pura scuola classica europea. Divenne la stella, una delle stelle, per dire la verità, dell'American Ballet Theater a New York. I suoi anni d'oro sono la seconda parte degli anni 40. Nel 1947, George Balanchine crea per lei un balletto importante, Team and Variations, che è tuttora nel repertorio anche del balletto di Cuba e anche dell'American Ballet Theater. E fece quindi una grande carriera internazionale alla fine degli anni 40 e negli anni 50. Nel 59, come sappiamo, accade l'evento storico che cambia la storia di Cuba. E la rivoluzione, la rivoluzione, gli oppositori alla dittatura di Fulgenzio Batista, che era appunto il capo di un governo, insomma, non è il caso ora di fare la storia, ma gli oppositori, quindi la dittatura di Batista, guidati da Fidel Castro e dal famoso Che Guevara, rovesciano il regime precedente, prendono il potere nel 1959. Da subito, da subito, Fidel Castro, che è un uomo colto, senza dubbio, era un avvocato, un uomo di buona cultura, capisce che questo nuovo paese, nato da un passato ambiguo, diciamo così, un recente passato ambiguo, questo paese nuovo deve essere nuovo anche nella cultura. Si guarda in giro nel mondo e vede che la personalità cubana, nelle arti dello spettacolo, naturalmente, non parliamo del resto, la personalità sulle scene internazionali cubana più marcante dell'epoca è Alicia Alonso, che sta a New York. Lì, se sia lui ad averla chiamata, o se sia lei ad essere tornata, Alicia Alonso si vanta molto del suo patriottismo cubano, dice, io sono cubana, quando nel mio paese è successo questo, io ho capito che il mio posto era là e io sono tornato a Cuba. Dice, fatto sta che torno a Cuba. E Fidel Castro in persona decise di affidarle, diciamo, tutta la parte d'Anza, ha detto, il paese deve avere una compagnia di balletto, come ha altre cose, abbiamo Alicia Alonso, lo affidiamo a lei. Alicia in persona mi ha raccontato, non solo a me naturalmente, lo racconta a tutti quanti, di una certa notte in cui lei era nella sua casa, al Vedado, casa che è vicina a quella dove ora sede la compagnia. Arriva grande, grande trambusto, arrivano automobili militari, soldati, cose, scende Fidel Castro da una macchina, entra in casa, si siedono intorno a un tavolo, con un caffè, con un room, non so che cosa, e Fidel gli dice, bene Alicia, vi ripeto il suo racconto, è scritto anche su alcuni libri, ma posso assicurarvi che lei lo racconta proprio così. Scende Fidel Castro, si siedono a un tavolo, Alicia, suo marito Fernando Alonso, che sarà poi il vero grande maestro che fonda la scuola cubana, il fratello di Fernando, che è Alberto Alonso, che diventerà poi un coreografo importante, e Fidel, e Fidel gli dice, senti un po', vogliamo fare un balletto nazionale in Cuba, che sarebbe l'unica cosa un poco, diciamo, originale e significativa, e veramente cubana, visto che ci sei tu, quanto ti serve per fare una grande compagnia di balletto? La rivoluzione è appena partita, non abbiamo tanti soldi, ma quanto ti serve per fare una compagnia veramente, una scuola, perché non c'è compagnia senza scuola, scuola non soltanto nel senso di istituzione per formare gli allievi, ma proprio scuola nel senso più ampio del termine, cioè di fondare un qualcosa che nel balletto sia veramente cubano, e con una grande compagnia che possa girare il mondo, quanto ti ci vuole? Lei, il suo marito e il cognato dissero una cifra, questa è la leggenda, e Fidel disse, ti do il doppio, il governo, lo Stato, insomma, ti dà il doppio, ma devi assolutamente fare una cosa di primissimo livello. E così fu, sembra retorica, sembra banale dirlo, ma fu proprio così. E una cosa, il fenomeno della scuola del balletto di Cuba e il balletto nazionale di Cuba sono un fenomeno così sorprendente, così sorprendente, che veramente appartiene, è quasi appartiene alla leggenda, e devo dire, con tutta l'ammirazione per il popolo cubano, viene dalla volontà tenace, diabolica, vorrei dire, nel buon senso, mostruosa, vorrei dire, sempre nel buon senso, di una persona, che è Alessia Alonso. Dunque, Alessia Alonso, apro una piccola parentesi, e doveva essere qui, avrebbe dovuto essere qui con la compagnia, come sempre, perché segue la compagnia da sempre, e ho un messaggio di suo marito, mi ha scritto un'email, dicendo, ho fatto fatica a convincere Alessia a non venire, perché il medico ha detto, ha avuto un problema di salute, sapete benissimo, ha avuto una specie di bronchite, o qualche cosa, e il medico le ha detto, se viaggia a quell'età, se viaggia a Torino in questo momento fa freddo, se viaggia rischia veramente la vita, e quindi l'hanno forzata a non venire, forzare Alessia Alonso non è facile, perché è un'autorità, un'autorità, anche proprio in tutti i sensi, anche in senso materiale, comanda lei, la comanda lei tutti quanti, sono qui, mi possono smentire, se hanno capito che cosa ho detto, quindi non è stato facile convincerla, e mi scrive, l'ho finalmente convinta col dottore a non fare questo viaggio, è molto arrabbiata, ti prega di salutare tutti a Torino, di salutare il pubblico, di dire che vorrebbe tanto essere qui, ma non gliel'hanno permesso, il dottore non gliel'ha permesso, quindi ve lo riferisco, così come me l'ha detto. Quindi eravamo rimasti dunque ad Alessia Alonso, che ottiene dal nuovo governo, la possibilità di impiantare una grande compagnia di belletto, e l'ha fatto in un modo, in una forma veramente sorprendente. Questi due ragazzi qui vicino a me, sono la dimostrazione, li vedrete ballare, ma non è soltanto una compagnia, come tante compagnie che vediamo anche a Torino, che passano nei teatri, è una grande scuola, è una scuola mondiale di belletto, è una scuola che ha prodotto danzatori, che da 50 anni sono, a livello di attuali, sparsi in compagnia di tutto il mondo, soprattutto recentemente, quando la possibilità di uscire dal paese è un poco, diciamo, più negoziabile, diciamo così. Oggi, abbiamo fatto recentemente, proprio con Elisa, abbiamo fatto recentemente una lista di danzatori cubani sparsi nel mondo, e veramente sono una quantità, a livello di primi ballerini, non soltanto di corpo di ballo. Quindi questa scuola straordinaria, che ha formato generazioni intere di ballerini, perché non è una scuola con dentro 100 ballerini, è una scuola che è molto radicata nel paese, e che ha sedi e filiali in tutte le città maggiori del paese, dove è il vecchio sistema russo, in un certo senso, come si faceva in Russia. Ci sono scuole in tutto il paese, i migliori passano nella scuola di grado un poco superiore, e i migliori di tutti confluiscono nel balletto nazionale. E questo è solo un sistema così. Il balletto è un'arte strana, il balletto classico, è un'arte che vive di disciplina, che vive di organizzazione, che vive di trasmissione di lavoro accurata, in cui si deve seminare molto per ottenere dei pochi fiori che spuntano e che diventano più alti degli altri. E si può ottenere soltanto con questo sistema. Sembra antidemocratico dirlo, ma è proprio così. Scusate che chiedo una cosa. Voi siete... Ustedes viene della scuola di grado nazionale? Sì. Vedrà? Tu sei della Havana, siete tutti due della Havana. Ecco, loro, infatti, per esempio... Viene dalla scuola di grado nazionale? Sì. Ecco. Allora, mi confermano. Vi sa, e la conosco da molto tempo, ma da molto, mica tanto, perché è giovane, ma insomma, la conosco da tempo, l'ho vista ballare tanto, ma non mi ricordavo esattamente, perché ci sono che provengono, appunto, come vi dicevo, da altre scuole. Tutta questa grande organizzazione scolastica, pedagogica, didattica, confluisce poi in quelli che andranno a far parte della compagnia principale. Altro piccolo equivoco, si tende a pensare... Dopodiché vediamo qualche cosa, vorrei farvi vedere qualche video, perché state tranquilli che sarò interrotto da loro, spero, da voi stessi, vi prego se avete delle domande da fare, a loro, naturalmente, e anche da qualche video che ho portato, per darvi un'idea di Alessia Alonso, soprattutto del Balletto Nazionale. Piccolo equivoco da sfatare, si pensa che la scuola classica, quindi, del Balletto Nazionale di Cuba, sia di base russa, ma questo è un cortocircuito storico che facciamo noi, perché pensiamo alle relazioni politiche tra Cuba e l'Unione Sovietica, che sono durate decenni, e immaginiamo che per questo la scuola cubana abbia preso dei russi. Non è assolutamente vero, non è vero, perché i legami del governo di Cuba con l'Unione Sovietica sono successivi. A quest'epoca, Alessia Alonso era già una stella di prima grandezza, riconosciuta mondialmente, la scuola in Cuba, e poi, in ogni caso, Alessia stessa non volle, non volle mai, volle imporre la sua propria scuola, che lei aveva ereditato dai suoi maestri a New York, che era una scuola russa, bianca, cioè da prima della rivoluzione, italiana, lei ricorda sempre un certo maestro Zanfretta, che io non sono riuscito a trovare su nessun libro, da nessuna parte, che sarebbe stato il suo maestro a New York. In verità, lei fu sempre piuttosto restia ai rapporti con la Russia, lei personalmente. l'unico vero contatto è stato un danzatore che si chiama Azari Plisetsky, che è il fratello della famosa Maya Plisetskaya, che venne a Cuba come ospite, molto semplicemente, per ballare con Alessia, lo vedremo adesso in uno dei video che ho portato, un attimo, e si sposò poi con una ballerina cubana, Loi Parauco, che andò naturalmente in Russia con suo marito, che studiò un po' lì, qualcun altro andò a studiare un po' in Russia, qualche russo venne a Cuba come ballerino invitato, ma erano rapporti diciamo del tutto ordinari di inviti, non erano assolutamente, non hanno influito per nulla sul balletto cubano, questo proprio è un equivoco, i rapporti tra Russia e Cuba non hanno nulla a che fare col balletto di Cuba. Bene, adesso, giusto per annoiarvi con la mia voce, pregherei la regia di mettere il primo pezzettino che abbiamo previsto, vediamo qualche film. Dunque Giselle, qui si inaugura con Giselle, quindi ho pensato di farvi vedere un pezzettino di Alessia Alonso e il balletto nazionale di Cuba in Giselle. Giselle Alonso la gran bailarina in il role con cui la identificano i pubblici di tutto il mondo. Un artista che non solo ha illuminato a chi la ha visto danzar, sino che ha fatto del balletto per mille di persone un aspecto esenzial di la existenza. Proviamo a passare la traccia successiva. Alice Alonso ocupa una posizione preeminente in Giselle. Dunque, si trattava di Giselle, Alice Alonso ha incarnato Giselle. ...e un esforzo personal che rappresentano per Alice Alonso durante i primi anni negli Stati Uniti adquire una tecnica, dominar i stili e il conoscimento teatral necessario per convertire in una gran estrella internazionale in l'arte del ballet. Qui questo documentario che è stato realizzato a Cuba parla... No, no, lasciate pure andare. ...el ballet norteamericano de esos años che non potrebbe testimoniar con la nuova di Giselle. e qui stanno parlando degli anni americani. Alice Alonso, la bailarina, non fu un prodotto di promotori. Studiò, è certo, con buoni maestri. Fui una studiante avida di assimilare i conoscimenti del ballet. Però la forma in cui usò su preparazione e il caos per cui usò su talento fuori il risultato di sua propria elezione, di sue propias decisioni. La maggiori delle ballerini di fama mondiale sono prodotto di scuole e promotori. Però Alice Alonso si avessi il suo proprio cammino. Ella sola è responsabile del trayecto che la conduzera a essere la gran ballerina Alice Alonso. Grazie. Questo che ha detto è molto vero e ve lo riassumo brevemente ma avete tutti capito. Dice che Alice Alonso non è stata la fama stellare mondiale di Alice Alonso non è stato uno prodotto di agenzie o di direttori di compagnie ma è stato un po' come dire una carriera autodidattica. Cioè era la sua volontà la sua capacità di studiare studiare sì con i buoni maestri ma prendere il meglio e trasformarlo a suo modo è stato quello che ne ha fatto la grande ballerina che è diventata Alice Alonso. Ora Giselle è stato il ruolo identificativo per così dire della sua carriera. Ci sono ballerine che come cantanti insomma che danno a certi ruoli a certi grandi ruoli del repertorio un carattere quasi nuovo che ce li fanno vedere o che li hanno fatti vedere alla loro epoca in un modo quasi inaspettato quasi inatteso che hanno rivelato qualche cosa che era nel ruolo e che ci appare nuovo per cui sono in un certo senso co-creatrici del ruolo vorrei dire ecco in Giselle così come lo vediamo oggi ci sono state delle co-creatrici probabilmente Margot Fontaine probabilmente Galina Ulanova dei russi un pochino più recentemente possiamo senz'altro mettere nel conto la nostra Carla Fracci se parliamo del ruolo di Giselle Yvette Chauvin per i francesi ma senza dubbio Alicia Lohonso è stata una Giselle soprattutto nel continente americano anche nel nord America quindi anche negli Stati Uniti che ha dato al ruolo un carattere così così personale così autentico ma così personale il tempo stesso da rivelarci qualche cosa di nuovo così come viceversa la ballerina ha trovato nel ruolo un aspetto del suo carattere della sua interpretazione che è l'elemento romantico l'elemento di purezza tecnica e stilistica innestate su un fondo romantico è quello che lei ha trasmesso alla sua propria Giselle perché la Giselle che balla oggi il Balletto Nazionale di Cuba è in una versione coreografica curata dalla stessa Alonso che ha dato che ha effettivamente messo anche nello spettacolo qualche cosa di sé ora viene sai Valdez che ballerà Giselle che lo sappia o non lo sappia ma lo sa molto bene e fa qualche cosa che era di Alonso in un certo modo nel Porte de Bras anche nel Corpo di Ballo diverse cose vuoi dircelo tu che cosa c'è di speciale nella Giselle Cubana la Giselle Cubana è molto speciale nel senso che la forma in cui fu concebita la nostra versione che è differente alla del resto del mondo fa che il corpo di ballo sia molto interattivo e appoggiando sempre l'azione della bailarina principale dice che il modo la forma in cui sono arrivati ad avere la Giselle così come l'hanno ora è molto particolare perché Alice ha concepito pur essendo lei stessa una grandissima interpreta del ruolo principale questo lo aggiungo io ha dato come dire un'interattività un'interazione tra il corpo di ballo e la protagonista e anche si è fatto un studio su ogni uno dei personaggi sia sia le due Willys il Duque tutti questi personaggi hanno una storia tan marcata che quindi tutti devono facerlo a la misma volta per che si entienda la storia tutta la scena e tutta la interpretazione dei personaggi Giselle per me è uno dei miei favoriti dei più difficili di interpretare nel senso che la bailarina non solamente si despliega tecnicamente sino che ha anche un gran un gran interpretativo tra l'altro si ho già dimenticato più o meno però credo che abbiano tutti capito mette il punto sul fatto che Alice ha voluto dare a tutti i ruoli non solo a quella della protagonista un carattere molto marcato il ruolo principale naturalmente è formidabile e Viengzai dice che è il suo ruolo preferito naturalmente e l'ha sempre cercato di danzarlo in questo spirito pur mettendo naturalmente una una personalità sua che è quello che poi richiesto del balletto cubano il balletto cubano non reprime la personalità individuale naturalmente c'è anche un ballerino in Giselle che ha un ruolo molto importante abbiamo visto tutti abbiamo visto Nureyev chi non è troppo giovane qui avrà visto Nureyev Vladimir Vasiliev quindi è un ruolo anche quello maschile che ha che ha segnato molto anche la storia personale interpretativa di tanti di tanti grandi ballerini chiediamo a Vittor che cosa che cosa ne pensa del ruolo e come lo affronta lui lui è molto giovane lui è uno dei 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 nuovi diciamo così dei nuovi ballerini principali della compagnia quanti anni ha? Quanto sbagliati? 21 21 21 per me ha un peso drammatico ben grande anche se che dal principio del ballet Albrecht simplemente va giù con ella fino a che poco a poco durante il traietto della obra si va innamorando perdidamente dell'idea e al final si dà cuenta che sta perdita dice che segue molto la parte narrativa diciamo del ballet soprattutto nel primo atto dice che il principe cioè il suo ruolo all'inizio è un po' vago è un po' così poi conoscendo Giselle si innamora nel corso dell'opera nel corso del ballet si innamora e che in parte per la sua culpa ella muore e questo nunca se lo perdona fino a che va al cimenterio a rendirle a ponerle flore a ricordarla e come che tiene l'esperito d'ella nuovamente por mucho tiempo bailando con el y bueno es un peso drammatico bien grande che ha questa è la storia di Giselle dice che ha un ruolo drammatico molto forte perché alla fine lei muore un po' per colpa anche sua e quindi lui la va poi a cercare nel nel bosco nella sua sepoltura eccetera è la storia di Giselle e lì c'è tutta la parte diciamo drammatica del personaggio ma dal punto di vista danza bueno dal punto di vista danza è bien difícil también tecnicamente tiene un segundo ato bien bien fuerte para l'hombre ya che tiene muchas cargadas che hay que darle la sensación de que Giselle estaba flotando en el aire y es bien complicado para l'hombre esa tarea y muy fuerte tecnicamente desde punto de vista de los pasos que requiere el ballet dice que avete capito ma rivede un ruolo molto difficile anche tecnicamente soprattutto nel secondo atto perché richiede una tecnica molto forte ma anche molto leggera perché deve sembrare deve sembrare che voli anche lui deve sembrare quasi come se fluttuasse nell'aria y bueno si te digo es un balé igual de mi preferido o che tiene un personale bien grande y lo estudiando bastante a pesar de que estando con bien y creo que va ser un buen trabajo que haremos aquí dice che l'ha studiato molto approfittando anche della partnership con bien sai che ha un po' più di esperienza e che conosce meglio il balletto e che spera che farà del suo meglio ma tu hai visto in video probabilmente altri grandi interpreti del ruolo a quale eventualmente ti sei ispirato tu hai visto in video altre persone che hanno il prodotto che mi ballo in canale del poche hai due che te bueno si ho fijato molto en Jorge Schivel quando bailaba con Alicia Alonso il Giselle che è molto bueno su Giselle e por ahí he tenido mucha referencia a parte de otros che han pasado por la compagnia ballerino cubano Jorge Schivel che è stato per molti anni partner di Alicia Alonso e dice che è quello che più l'ha ispirato anche perché naturalmente è lo stile cubano è lo stile dell'interpretazione di Alicia che gli è richiesta quindi è del tutto naturale che si sia ispirato a questo vogliamo provare a vedere un pezzettino di video ancora un pezzetto successivo che avevamo previsto o se no per no scusi cambiamo la regia chiedo scusa per per cambiare un poco perché se no ho paura che andiamo troppo per le lunghe con i video e potremmo vedere forse per cambiare un attimo discorso per passare da Giselle a qualcos' altro perché la tecnica cubana e il balletto cubano non è soltanto di base romantica come il caso di Giselle e dei video che abbiamo visto finora e di quello che ci hanno raccontato i ballerini ed è un po' la specialità cubana è anche virtuoso tecnicamente molto forte al punto da arrivare ad un virtuosismo che è strano a dirsi oggi nel mondo ha pochissimi paragoni i ballerini più virtuosi del mondo sono probabilmente i cubani tanto le donne quanto soprattutto la tecnica maschile che è molto sviluppata nel balletto cubano anche perché c'è una specie di parità nell'ambito della scuola cubana a differenza dell'Europa dove evidentemente la ballerina ha sempre avuto il predominio anche tecnicamente nella scuola cubana nonostante la presenza di una simile personalità femminile come Alicia Alonso anche la tecnica maschile è stata molto sviluppata però insomma la tecnica è per la scuola cubana un elemento di orgoglio e quasi di gioco è straordinario vedere purtroppo non ho dei video da mostrarvi è straordinario vedere una classe del balletto di cuba perché ha qualche cosa di così entusiasmante lo dico davvero e non sto facendo retorica o non sto dicendo cose dei luoghi comuni ma vedere una classe del balletto di cuba fa capire tante cose vi raccomando di cercare magari in internet su youtube eccetera si trovano delle cose perché è molto diverso che una normale classe dove dei giovani sono lì che faticano che sudano che fanno una cosa strana in cui credono fino a un certo punto eccetera una classe del balletto di cuba è una è una cosa di non dirò di gioia perché c'è l'elemento di fatica c'è l'elemento di impegno fisico ma è un è un è quasi una festa di competizione vorrei dire di orgoglio con tutti i ragazzi che si mettono e alla fine della classe fanno la gara a chi gira di più per dire sembra una sciocchezza ma il giro nella danza classica nella tecnica classica è molto significativo della dell'impostazione dell'equilibrio della della tenuta fisica del del raggiungimento di una di una perfezione di una forza nella danza quindi il giro non è una cosa da baraccone come diremo noi è una cosa molto importante come il giro le pirouette per le donne in punta il video che vediamo adesso passiamo però per favore dico alla regia passiamo direttamente all'altro video se ha tempo passiamo addirittura al numero due perché vorrei farvi vedere il famosissimo un pezzetto del famosissimo passo a due del cigno nero danzato da lì sia l'onso siamo qui negli anni negli anni io credo che sia del 63 se non sbaglio il famoso passo a due con 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 passo a due che è diventato molto famoso e tutti i ballerini ancora oggi conoscono questo video è diventato una specie di mito perché Alice Alonso a un certo punto nella variazione fa 5 pirouette perfette lente finite perfettamente ed è una cosa che ancora oggi impressiona oggi naturalmente la tecnica è evoluta non crediamo che la tecnica di un tempo fosse migliore non crediamo che le famose ballerine mitiche Chauvin Re Marco va tu mano va eccetera fossero tecnicamente molto brave oggi una diplomata della scuola del balletto di Cuba o della scuola dell'opera di Parigi diciamo ha una tecnica molto superiore come in tutti i campi Niccolò Paganini sembrava un demonio per la tecnica dell'epoca oggi qualunque diplomato di conservatorio suona tecnicamente come meglio probabilmente che Niccolò Paganini quindi la tecnica in verità è in evoluzione ma questo questa esibizione di Alessia Alonso di 50 anni fa è ancora oggi sorprendente per tecnica cioè se voi fate vedere a dei giovani ballerini dei video di danzatrici di 50 anni fa probabilmente gli verrà da ridere perché è tutto cambiato gli fate vedere questo passo a due di Alessia Alonso non ridono proprio per niente anzi restano bocca aperta proviamo a vedere questo questo video grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti.